L'anno scorso è stata inaugurata la rivista Aradica Calabrese che si occupa, quindi si studia aradice e prettamente delle famiglie calabresi e quest'anno è anche la rivista Calabrese Casa Adalove a Gavallo. Sono due cose che sono, vanno parallele, ma in verità si toccano sopra il viso. Questo perché? Perché effettivamente lo sport, perché la nostra strada è lo sport, ha derivazioni che sono delle derivazioni nominiane, ossia la Casa Adalove a Gavallo che comincia in Inghilterra, questo dunque non neanche il nome si chiama, il Bofor, nel 1876 il golf nasce là, il tennis, il football, tutto nasce in Inghilterra perché aveva un tempo e soldi per poterlo permettere e quindi nasce questa equitazione di campagna. Nella rivista quindi, Caccia alla Volpe, che è interessante ed è la prima ma anche unica rivista in Italia e questo mio cugino dalla Calabria parte, forse per lui il più giovane, lui dice no, apriamo anche al mondo, mettiamola sul web, facciamo una rivista, comunichiamo che cosa stiamo facendo e quindi ha una presentazione che prima parte da una sezione storica quindi si riallaccia a quelli che sono i basi di quello che noi facciamo, cioè l'epitazione. L'epitazione ha delle basi che sono delle basi militari, storiche e aristocratiche, quindi gli aristocratici da sempre andano a cavallo e tutte queste cose sono contenute, prego ovviamente non è il primo numero, ma è l'intenzione, il mio cugino, di divulgare quelli che sono gli appassionati di equitazione, ma anche gli appassionati un po' di storia e anche gli appassionati un po' di costume. Perché di costume? Perché in Italia, questo magari a voi che siete qua, non sapete, non so se voi riuscire a praticare la paresa o no, comunque in Italia esistono parecchie società di caccia alla morte, io non so se ne vanno in particolare, se no, posso elencarle, perché non ho mai contato, quindi esiste la più vecchia, che è questa, che a vittura, vedete, aveva fatto un libro, che è una società che a Roma nasce a Roma nel 1836 ed è la più vecchia d'Italia, una società che ha più di 150 anni, quindi la società romana di caccia alla morte ha 150 anni, questo che cosa vuol dire? Che ha passato le guerre, c'era il regno, la loro repubblica, c'era l'annunzio, cioè attraverso la società romana di caccia alla morte è passato il mondo, è l'elite dell'epoca dell'Italia. Quindi c'è un interesse specifico per questa attività della caccia alla morte che è equitazione di campagna, non lo trovo mentalmente, però quello che è importante e che ancora non viene tanto percepito per colpa di queste società che sono anche vecchie è che comunque le società di caccia alla morte sono basate su degli elementi che sono degli elementi vecchi ma moderni. Vecchi perché apparentemente c'è questa forma, ma moderni perché sono basati su dei sentimenti che possono sentire a tutti, cioè sono non a scopo di lucro, può essere un nuovo moderno, detto da lo stesso, e poi sono basati sulla cifra, cioè se tutti uguali, come in un periodo di caccia, tutti del tu, in un periodo di caccia a cavallo e tutte le società, adesso, un po' grazie a me, falsa e modesta, non bisogna avere un decuratore, falsa e modesta, cioè io anni fa ho detto alle società dovevo parlarsi. Mio cugino vuole dedicare a questo molto tempo perché ha passione e noi siamo tutti contenti, anzi mio fratello non è potuto venire che aveva un impegno a casa nostra, in Piemonte, quindi è rimasto là, però un po' parlo su il cato, infatti si chiamava, diceva sempre, cosa fate perché avrei voluto essere qua, anche un po' per curiosità. E poi per vedere mio cugino che ha fatto prima la rivista alattica, adesso ha fatto la rivista calabrese, e adesso ha fatto anche un forno, quindi lui il primo ha fatto un forno nel quale chiunque voglia delle notizie scrive e dice ma come è sta caccia, datevi delle informazioni, cioè si è pronta avanti nel mondo più moderno. E con questo lascio la parola a Mastro Dolcella. Signore e signori, buonasera. Ha detto delle cose molto belle, molto precise, molto puntuali che ho apprezzato tutte le ho apprezzate. E la prima cosa che vorrei dire è che il rapporto tra me e Donetto è molto solido ed è molto vecondo. l'ho trovato nel barone e Donetto Regalza di Benzo, un giovane innamorato della cultura e attivo nel campo culturale. È stato promotore della rivista alattica calabrese, che è un po' eccezionale successo, e adesso di recente promotore della rivista alattica di caccia all'Europa, che è molto bella. e poi sono onorato, soprattutto perché l'ho detto, e che viene molto spesso, mi ha onorato di assegnare la direzione dell'una e dell'altra rivista, naturalmente dalla rivista Alte e Calabrese, ho fatto molta pubblicità, attraverso la stampa, in Smedia, e gli amici. Della rivista Calabrese, che è una rivista piuttosto tecnica, ma che ha della parte storica, che io intanto devo parlare dei valori storici che sono tostrati in questa rivista, e quello propagandolo successivamente. Intanto ho ricevuto, questo riguarda la famiglia Gallelli, è un fatto estremamente importante, che è un regno noto, anche qui ci, e ho ricevuto a cui giorni fa, da uno dei più grandi artisti d'Italia, direi d'Europa, uno dei più grandi, ne abbiamo altri due o tre, dal Conte Belfi di Calabrese, che è il Presidente dell'Accademia Arabica Pubiliare Italiana. È una lettera importante, con la sua lettera, il Conte Camagliani mi ha richiesto tre tipi di documentazione, una sulla baronia di Barolato, che lui vuole sapere se effettivamente Barolato era baronia, non l'opera ricorduttiva, perché lui era baronia, una seconda documentazione è se effettivamente i baroni Gallelli ha un signore in possesso del titolo di Baroni di Barolato. E la terza documentazione è che se i baroni ha i baroni Gallelli, debba aspettare il titolo di conti di pago e di vita. Io, nel mio ecco archivio, che possiede più di 35.000 documenti, quella che è naturalmente in protocopie, ho fatto la ricerca e ho mandato al Conte Camagliani fino a tre giorni fa, le tre documentazioni. Quindi, i baroni Gallelli possono, spettare i baroni Gallelli il titolo di Conte. Conte i baroni Gallelli che... è un titolo che assegno io, ma è stato già rassegnato nel 1333 e viveva Malusio Gallelli o Malusio Gallelli, se si fuori da questa cosa, come ha documentato attraverso una ricerca molto sottile il direttore dell'archivio di Instagram e che abbiamo mandato in croato o in latino le protocopie dei documenti. Ecco c'è il Codex Romaticus e prima edizione del 1909 in cui il proprio registrato specificamente sulla base di tutta la serie di documentazione che è Malusio Gallelli o dei Gallelli che racconta di parlo e lì. Voi sapete che entro il 15 novembre a Varinaglio la mia monumentale storia di valoranza 709 e più 109 motoreverie rare e coede e appena macchina un lavoro a cui ricerca è durata 30 anni quindi nel capitolo che ho dedicato molto molto ampio molto bello molto sottile assai assai documentato sulla storia dei Baroni Gallelli o poi alla linea della situazione ho detto con l'ospettanza ai Baroni del titolo di conti di pago di pago di pago di pago di pago di pago